Intervistato dal quotidiano Il Giornale, Maurizio Costanzo dopo aver ricordato, e smentito, alcune leggende metropolitane che lo hanno riguardato, quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un menage a Troyes, io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci, Costanzo ha spiegato che un segreto per avere successo è conservare i nemici. Non ho più rapporti con Adriano Celentano, che si offese quando definì qualunquista una delle sue uscite, né con Nanni Moretti, che si stupiva fossi un simbolo della lotta alla mafia. Per il molleggiato mi dispiace, per Moretti non me ne frega niente. Col critico TV Aldo Grasso non ho mai chiuso i miei conti. Ne mai lo farò, se ne faccia una ragione. Anche con Pippo Baudo per anni ci siamo stati cordialmente sulle scatole. Ma la vecchiaia ha giusta tutto. Anzi, oggi vorremmo fare insieme un programma, i videosauri. Io e lui su un divano, a commentare la tv di oggi. Infine la rivelazione. Costanzo ha deciso l'epigrafe da far mettere sulla sua tomba. È la frase vergata da Cesare Pavese, prima del passo estremo, non fate troppi pettegolezzi.